Le chiese di Modica non finiscono mai di sorprenderci. Uno dei casi, uno degli ultimi casi, è questo straordinario ritrovamento di una tela sotto una tela. Per saperne di più ne parliamo con Paolo Segreto dell'Associazione Petra Mazzara, qui della chiesa di San Pietro. Allora, che caratteristiche presenta questa tela e perché è così importante? Allora, a distanza di tre anni da questo straordinario ritrovamento, noi ci troviamo a festeggiare domani sera questo restauro fantastico di questa tela settecentesca, probabilmente, che raffigura San Nicola che intercede presso l'imperatore Costantino per liberare tre generali. Questo ritrovamento è tanto più significativo in un momento come questo, nel contesto storico che stiamo vivendo, in quanto sapete tutti che San Nicola è un santo al cui sono devoti tutte le popolazioni cristiane, in particolar modo le popolazioni ortodosse, i cristiani ortodossi. E quindi il ritrovamento in questo momento, il restauro completato proprio in questi giorni in cui il conflitto sta affliggendo il nostro continente, e per noi assume una valenza che è ben più che storico e artistica, ma ha un significato profondamente religioso e spirituale. San Nicola è il santo del dialogo e della pace. Questo svelamento avverrà domani? Dopo la messa delle 18.30, alle 19.30 attendiamo il sindaco, l'assessore e soprattutto il sovrintendente. Alla loro presenza la dottoressa Gaetana Ascenzo mostrerà lo stato pietoso in cui era ridotta la tela prima del restauro e quanto è diventata bella e splendida ora. In pratica abbiamo scoperto che questa tela è rimasta nascosta per 160 anni sotto una tela che gli era stata sovrapposta, distruggendo anche parte dei contorni della cornice. La tela più grande l'ha coperta per 160 anni, quindi è probabile che dall'Unità d'Italia, questo è il primo momento che torna alla luce, questo San Nicola con tutta la sua classica iconografia e con dei particolari veramente splendidi che la dottoressa Ascenzo potrà meglio spiegare. Chiaramente in questo restauro hanno avuto un ruolo primario gli sponsor privati, in quanto ringraziamo i club Lions, Rotary, Nervil, ringraziamo l'associazione Piero Iemmolo e la Banca Agricola che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto di restauro e in quanto, ripeto, non è una cosa che è pochi anni che è nascosta. Questa tela è rimasta nascosta dall'Unità d'Italia ad oggi, quindi è una cosa che neanche i nostri nonni, neanche i nostri bisnonni avevano mai visto. Capiamo l'entusiasmo. Abbiamo parlato di restauro e a tal proposito vorremmo sentire la restauratrice che è la dottoressa Gaetana Ascenzo. Che difficoltà ha presentato il restauro di questa tela? Il restauro si è svolto nell'arco di qualche mese. Io credo che sia stato coperto per una notevole mancanza, un notevole danno che è stato apportato al dipinto. Infatti gran parte del viso del santo risultava mancante, causato da un danno accidentale nel corso dei primi anni della realizzazione e di conseguenza poi coperto. È stato fatto un notevole lavoro di pulitura che ha portato alla luce veramente i particolari di pregevole fattura del dipinto e è stata realizzata una reintegrazione cromatica e domani sera potete vedere la tela in tutto il suo splendore. E allora è vero che in effetti le chiese di Modica continuano a sorprenderci, a lasciarci delle sorprese? Ce ne saranno ancora? Lo spero, lo spero anche perché le nostre chiese sono veramente ricche di bellezze, di opere d'arte molto spesso sottovalutate, per cui questa ricerca, queste scoperte non fanno altro che arricchire il nostro patrimonio cittadino. Grazie alla dottoressa Gaetano Ascenzo e l'appuntamento per domani, domenica, dalle ore 19, per gli appassionati di cultura, questo bel momento.